Perché il mondo dell'informazione e i media sono al centro di una rivoluzione accelerata che ha profondamente trasformato le pratiche politiche, culturali e sociali e continua a farlo come abbiamo verificato nella presente crisi sanitaria nella quale piattaforme come Zoom e Teams sono entrate nella quotidianità di molti di noi. Questo evidentemente obbliga l'Università di Bologna ad aggiornare la propria offerta formativa per poter preparare al meglio i professionisti del futuro. Ecco, le ragioni per iscriversi alla magistrale Incom nascono essenzialmente da qui. In primo luogo è un corso nuovo progettato anche grazie ai consigli e suggerimenti di importanti professionisti del mondo della comunicazione. Perché i docenti che vi insegnano sono estremamente qualificati nelle rispettive discipline? Perché il personale tecnico e amministrativo è molto efficiente? Perché vi è un tutor di corso di studio dedicato, funge da canale di congiunzione tra la componente studentesca e quella docente? Perché vi è un'ampia scelta di laboratori tra i quali optare? Perché infine questo corso si colloca all'interno di un ambiente ben attrezzato sia dal punto di vista delle aule che dei laboratori e si situa all'interno del Dipartimento delle Arti che è ormai diventato un riferimento importante per chi voglia studiare media e comunicazione al punto che ospita anche il master di giornalismo dell'Università di Bologna. Il progetto didattico multidisciplinare coniuga una solida formazione culturale a insegnamenti specifici legati ai linguaggi e alle industrie mediali e alle principali novità che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare il mondo dell'informazione dei media dai social media all'infografica passando per i big data. Il primo anno di studi è comune a tutti gli studenti mentre il secondo anno c'è la possibilità di scegliere tra due curricula il primo in organizzazione dei media e il secondo in culture dell'informazione. Ecco lungo questo percorso sia al primo anno che al secondo lo studente può optare per due laboratori tratti da un'ampia gamma di possibilità. Le ragioni sono molteplici. In primo luogo l'Ateneo di Bologna ha origini molto antiche ma al contempo è un riferimento sempre più centrale nel panorama universitario europeo. Perché l'Università di Bologna rappresenta una vera comunità aperta alla dimensione internazionale? Perché Bologna è una città caratterizzata da un'alta qualità della vita che offre molte opportunità, molte prospettive ai giovani ed è una città a misura di studente plasmata dalla vita universitaria. Perché infine laurearsi all'Università di Bologna significa ottenere un ottimo biglietto da visita per l'ingresso nel mondo del lavoro, per lavorare in Italia, per lavorare all'estero e nello specifico del nostro corso di studi per chi voglia operare nel panorama informativo e mediale contemporaneo.